Ciao bimbi, benvenuti ad una nuova puntata di Infinito e Tom Kids. L'argomento di oggi è lo zodiaco. Tranquilli, non vogliamo leggervi l'oroscopo. Lo zodiaco è semplicemente l'insieme di 12 costerazioni molto speciali. Sono speciali perché sono disposte una in fila all'altra e se potessimo vederle tutte insieme dallo spazio ci apparirebbero messe in cerchio, proprio come in questa bellissima immagine. Belle, vero? Vi ho detto che sono 12, però se guardate con attenzione ve ne apparirà anche una tredicesima e si tratta di Ophiucho, cioè colui che porta il serpente. Generalmente non si considera parte dello zodiaco perché sembra starsene un po' in disparte. Ma perché sono tanto speciali queste costellazioni? Rappresentano una zona di cielo molto trafficata. Eh già, perché è proprio tra queste costellazioni che vediamo scorrazzare i pianeti e il Sole. Le orbite dei pianeti si trovano tutte nella stessa regione di cielo e si muovono proprio tra le costellazioni zoriacali, quindi se cercate i pianeti li troverete solo da quelle parti. Il Sole durante l'anno sembra attraversarle tutte, una in ogni mese dell'anno. Per questo sono 12, proprio come i mesi del nostro anno. Ma scopriamolo insieme. Per farlo usiamo gli indovinelli. La prima costellazione zoriacale rappresenta il maschio della pecora. Si può chiamare Montone, oppure Ariete. Eh sì, non è molto grande questa costellazione, ma si vede nelle sere autunnali. È grande e può essere minaccioso. Come si chiama il maschio della mucca? Il toro. Questa costellazione invece ci tiene compagnia per tutte le sere d'inverno e contiene una luminosa stella arancione di nome Aldebaran. Sono due bimbi, sono fratelli, ma festeggiano il compleanno lo stesso giorno. Chi sono? I gemelli. È una costellazione semplice da riconoscere, grazie a due stelle molto brillanti e vicine, che si chiamano Castore e Polluce, ed hanno proprio il nome ai due gemellini. E arancione. Vive al mare e si sposta sempre di fianco e mai in avanti. Chi è? Il cancro, cioè il granchietto. Da dicembre fino a maggio si può osservare questo bel granchietto in cielo, ed è posizionato tra i gemelli e il leone, ma non ha stelle particolarmente brillanti. E il re della savana. Sembra proprio un grosso micione. Lo sai chi è? Il leone. Tra dicembre e giugno si può osservare il leone che sembra proprio accovacciato in cielo. La sua stella più luminosa è azzurra e si chiama Regolo. È una bella fanciulla, ma se ne sta tutta da sola. È la Vergine. Da febbraio fino a luglio si può osservare questa costellazione, che però è talmente grande da essere un po' difficile da individuare. Ha però una stella molto brillante di nome Spica, che rappresenta la spiga di grano nelle mani di questa bella fanciulla. Serve a sapere cosa pesa di più. Hai un'idea? La bilancia. Questa costellazione si può osservare nelle sere tra aprile e giugno, anche se non è particolarmente brillante. È piccolo, ma può essere pericoloso. Si nasconde sotto la sabbia del deserto ed ha un pungiglione. Lo scorpione. Lo scorpione si ammira perfettamente in estate. È molto luminoso e la stella più brillante di tutte. È rossa e si chiama Antares. Se uniamo il cavaliere al suo cavallo, che cosa si ottiene? Si ottiene una strana figura mitologica, il sagittario, metà uomo e metà cavallo. È una costellazione molto luminosa e al suo interno la scia della Via Lattea è molto più intensa e particolarmente visibile. E se invece uniamo una capra e un pesce? Otteniamo il capricorno. Eh sì, metà pesce e metà capra. Strano anche questo. Se lo guardiamo fatto di stelle ci ricorda forse un pochino un triangolo. Ci vivono i pesci quando li teniamo in casa. L'acquario. Questa costellazione si osserva bene in autunno e la sua stella più brillante ha un nome stranissimo. Si chiama Sadalsud, che significa il fortunato dei fortunati. Ed ora l'ultima costellazione dello zodiaco. Vivono in mare e si spostano sempre insieme. I pesci. Questa costellazione si osserva in autunno, però non è tanto appariscente. Rappresenta proprio due pesciolini legati per la coda. Li riesce a vedere in queste stelle? E così abbiamo concluso il nostro giro delle 12 costellazioni zodiacali. Li abbiamo scoperte tutte e adesso sappiamo qualcosa in più su questa zona trafficatissima di cielo. A questo punto non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon divertimento con le nostre schede da scaricare per continuare a giocare insieme e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!